Studiossi ricercatori luminari della scienza di tutta Europa a Città di Castello per cercare di scrivere la storia dell'evoluzione delle specie di conchilglie e biodiversità mediterranea. Era questo l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto nel polo scientifico museale Malacos a Villa Cappelletti, la struttura privata che può vantare a livello internazionale il maggior numero di conchilglie di ogni specie catalogate, oltre 600.000. Una prima intensa settimana di studi e ricerche non stop senza precedenti, effettuata da un team internazionale di naturalisti dedicato allo studio della biodiversità mediterranea e intitolato Corsica Malacos 2022. Per questo progetto sono state svolte ben tre campagne in Corsica, nel maggio 2001 costa settentrionale, a ottobre 2020 costa meridionale e maggio 2021. Nel corso delle campagne sono state raccolti dati e campioni in quantità senza precedenti per la biologia marina mediterranea, grazie a un team di decine di persone impegnate sia in mare, a campionare, sia a terra, a smistare, identificare e preparare dati e campioni raccolti. L'obiettivo del programma è quello di adottare un nuovo approccio dell'inventario della biodiversità, sviluppato e standardizzato negli ultimi decenni dal team MNHN, soprattutto nelle aree tropicali degli oceni indiano, pacifico ed atlantico. Così a Villa Cappelletti si sono riunite davanti ai campioni e a dati di molluschi, chiocciole, patelle, vongole e tutti i loro numerosissimi parenti raccolti sul campo, un gruppo di specialisti di questi animali per procedere in maniera collaborativa all'identificazione degli stessi, utilizzando sia lo studio morfologico degli esemplari, sia i dati derivati dal sequenziamento dei DNA di oltre 4.000 campioni. La peculiarità dei team sono da una parte i caratteri internazionali con rappresentanti da Francia, Spagna e Italia, ma molto più interessanti il fatto che gli specialisti sono in minima parte dei ricercatori universitario-museali. In gran parte sono dei dilettanti, cioè persone che nella vita professionale fanno altro, ma che hanno acquisito una passione e competenza nel riconoscere le specie di molluschi che quasi sempre superano di gran lunga quelle dei professionisti. Abbiamo così un enologo, un ex militare, un grafico, un orefice, un informatico, un ingegnere e un dietista che discutono animatamente davanti a delle microscopiche conchiglie di 2-3 mm di lunghezza la cui identità viene svelata solo unendo le informazioni della loro morfologia con la sequenza di DNA ottenuti dai biologi di tessuti. A metà del workshop si stima di aver catalogato già oltre 900-950 specie tra gli oltre 117.000 campioni e sono state annotate numerose specie sconosciute alla scienza.